in collaborazione con schirama dolomiti ad amello brenta val di fiemme ponte di legno tonale funivie folgarida e marilleva alpe cimbra folgaria lavarone vicina da non crederci val sugana trento monte bondone e valle dei laghi cari amici telespettatori ben ritrovati da floriano omoboni seconda parte di sport ad or tv la multi piattaforma tv e web tutta dedicata al turismo e allo sport puntata a questa tutta dedicata alle grandi novità di questa estate della valle del chiese nella prima parte abbiamo parlato di parapendio dal lago d'idro abbiamo parlato di canoing da storo ora abbiamo risalito la valle del chiese con la nostra bicicletta lungo la ciclabile di questo fiume chiese che nasce dalla valle di fumo dalle montagne dell'adamello e arriva sino al lago di idro siamo a lago di roncone che la parte a nord della valle del chiese lago di roncone al cospetto delle dolomiti di brenta patrimonio mondiale dell'umanità che vedete alle nostre spalle lago di roncone bandiera blu per la sua purezza delle acque e per la sua efficiente struttura balneare qui incontriamo diego de carli che lavora come communication manager con l'ente consorzio turistico della valle del chiese allora abbiamo visto diego la prima parte la parte diciamo a sud della valle del chiese con le loro offerte ora diciamo trasferiti nella parte a nord in questo bellissimo posto che sono al cospetto delle dolomiti di brenta certamente ai piedi anche del parco da mello brenta che è un altro aspetto molto importante del nostro ambito naturale ma il nostro abbigliamento non è proprio quello da mountain biker però questo conferma che la valle si presta anche semplicemente a fare della tranquilla attività fisica anche pedalando con le bike lungo la ciclabile abbiamo però dei grandi tracciati molto importanti una decina di tracciati 400 chilometri di tracciati in quota la possibilità di pedalare per oltre 20 chilometri oltre i 2000 metri quindi un'offerta a cominciare dal giro dell'orizzonte che sta diventando un must internazionale come nuova offerta di mountain bike abbiamo quindi la possibilità di garantire un divertimento alle famiglie ma di garantire anche un grande divertimento agli specialisti che sono alla ricerca di qualcosa di adrenalinico e anche qualcosa di nuovo la valle del chiese è la nuova avventura in mountain bike e sta riscuotendo successo insperato proprio a livello internazionale oltre che in italia la valle del chiese una valle lunga e piacevole parte dal lago d'idro arriva un altro bellissimo lago amme due bandiera blu tante offerte per chi ama le due ruote grassi in alta quota ma anche per persone tranquille di una certità come noi che vuole fare la sua pista ciclabile in tranquillità e sicurezza non solo ma c'è un legame stretto tra questi due laghi perché in arriva al lago d'idro avremo il ritiro del pisa fino a fine luglio e qui proprio sopra il lago di roncone avremo nello stesso periodo sbordando in agosto anche il ritiro della primavera dell'ellas due grandi opportunità due occasioni per vedere i beniamini all'opera un altro sport ulteriore che la valle del chiese offre e anche la possibilità di divertirsi per i tifosi che ci raggiungeranno perché oltre a vedere i loro beniamini avranno la possibilità di gustare tutte le offerte che la valle offre a cominciare dall'ultima iniziativa che milk life ovvero l'offerta legata alle malghe al latte al formaggio di questa valle milk life che ora andremo a scoprire andremo in alta quota però volevo chiudere questa nostra chiacchierata parlando della pesca la valle del chiese il fiume nasce da val di fumo dalle ghiacciai eterni della damello e scende fino al lago d'idro una valle un fiume ricco di pesca qui viene fatta la nocchis cioè quella che viene pescato il pesce ma non viene ucciso viene rimesso in acqua e anche qui è apprezzato dai tanti amici della pesca che vengono in questo territorio a godersi questo spettacolo è proprio così è nato questo progetto molto interessante grazie alle associazioni di pescatori della zona il lago di roncone che abbiamo alle nostre spalle un lago super conosciuto per la pesca del luccio quindi un pesce che non è così facile da trovare ma poi abbiamo tutta la zona dei laghetti e dei corsi d'acqua della val di fumo e della val di daone soprattutto dove è possibile pescare una serie molto numerosa di pesci e con grande gioia dei pescatori e con grande gioia anche di chi ama la natura perché poi questi pesci è una lotta tra l'uomo e il pesce e poi questo pesce viene liberato e quindi i corsi d'acqua non vengono dei pauperati in questo caso mi permetto vi ricordo tutti agli amici pescatori che ci seguono visit chiese trovate tutte le indicazioni perché è possibile anche attraverso trentino fishing prenotare il posto di pesca via internet quindi siamo anche dal punto di vista tecnologico molto avanti e guardiamo a livello internazionale con questo nuovo brand della valle del chiesa grazie a diego il sito quindi di riferimento del territorio visit chiese.it per avere maggiori informazioni ora andiamo in malga d'arnò in val breguzzo che è un altro territorio bellissimo della valle del chiese siamo saliti ai 1558 metri di malga d'arnò una delle 40 malghe di questo territorio siamo in val breguzzo al cospetto di montagne meravigliose che vedete alle nostre spalle qui con cornele abazzoli del consorzio turistico della valle del chiese parliamo del progetto turistico milk life la vita del latte perché in queste malghe si può gustare i prodotti tipici del territorio assaggiare latte comprare formaggi ricote quant'altro prodotto da questo territorio un progetto milk life che raduna le eccellenze delle malghe aperte della festival della polenta cioè vacanze e feste del territorio per scoprire sempre più le attività rurali del trentino e della valle del chiese hai detto bene floriano innanzitutto ben arrivato a malga d'arnò che è una delle malghe che fa parte del progetto malghe aperte e come correttamente hai segnalato tu da quest'anno la valle del chiese propone un nuovo progetto che è milk life che raggruppa sotto diciamo un unico cappello un'unica dicitura tutto quello che riguarda il mondo delle malghe degli alpeggi del formaggio del latte e di tutti i prodotti appunto che da esso derivano con la qualità che in valle del chiese è sempre stata garantita a malga d'arnò in cui ci troviamo in questo momento e avremo la possibilità nel corso dell'estate nei mesi di luglio agosto fino ai primi 10 di settembre di poter accedere con i turisti le famiglie i visitatori per poter scoprire la vita delle malghe e appunto rientra nel progetto malga aperte che oltre a questo bel alpeggio che visitiamo oggi raggruppa altre cinque malghe dislocate in vari angoli della valle del chiese da nord a sud ecco un territorio molto bello molto vasto dal lago d'idro sino alle dolomiti di il brenta questa è la val breguzzo e soprattutto hai detto bene malga aperte ma ci sono le albe ci sono le festival delle polente c'è la possibilità di abbinare il latte fresco di alta quota con la polenta di store che è un prodotto tipico del territorio della valle del chiese cucinati poi da chef stellati insomma non tralasciate l'offerta enogastronomica valle del chiese paradiso delle vacanze outdoor vacanze adrenaliniche ma anche il settore e il tasto enogastronomico piace e lo giustamente lo volete valorizzare altro che floriano e come e l'aspetto enogastronomico in particolar modo viene valorizzato e evidenziato nei grandi eventi che noi abbiamo nel mese di settembre a partire dalla desmalgada il 9 settembre mondo contadino il 22 23 settembre che si svolge al lago di roncone e che per il primo anno rientra nel progetto latte in festa un progetto che copre tutto il territorio trentino e raggruppa i migliori eventi legati al mondo del latte e poi con il mese di settembre finiamo con il festival della polenta e domenica 30 settembre ecco la desmalgada è per chi non lo sapesse perché d'estate le mucche salgono in quota dove c'è migliore alpeggio aria buona e il fieno migliore poi a settembre con l'arrivo dell'autunno le mucche ritornano nelle stalle in valle esatto la desmalgada in particolare il 9 settembre celebra questo ritorno a valle del bestiame con una grande festa che si svolge all'altopiano di buoni prati una grande festa per le famiglie per i bambini un appuntamento assolutamente da non mancare tutte le informazioni che io adesso ti ho raccontato e i nostri telespettatori le potranno visionare e consultare in visitchiese.it che è il sito ufficiale della valle del chiese. Tutti i prodotti poi chilometro zero che possono essere gustati avete anche ora va di moda queste trasmissioni di chef di enogastronomia qui veramente si assaggi i prodotti tipici del territorio sentiamo sentiamo il tintino delle mucche che stanno uscendo adesso si stanno avvicinando quindi cosa si può volere di più? Eh sì i formaggi poi sono assolutamente una cosa piacevolissima e hanno un sapore unico così come il burro la ricotta e il latte anche fresco perché no perché insomma milk life comunque spinge in questa direzione volendo appunto puntare alla valorizzazione di tutti questi prodotti quindi vi aspettiamo assolutamente in valle del chiese e per tutta l'estate 2018. Grazie a Cornelia Bazzoli milk life il nuovo progetto turistico qui del territorio e sicuramente questi sono i nostri testimonials i nostri amici che ci hanno accompagnati in questa bellissima intervista quindi venite in questo bellissimo territorio ora continuiamo la scoperta della valle del chiese ritorniamo in bassa valle ripercorriamo la valle del breguzzo all'incontrario lungo la nostra ciclabile torniamo al lago d'idro. Abbiamo ridisceso la valle del chiese con questa bellissima pista ciclabile che costeggia il fiume chiese un fiume che nasce dalle acque pure incontaminate della val di fumo nell'adamello ora questo fiume chiese sgorga nel lago d'idro un lago d'idro che è ricco di bandiere blu come il lago di roncone quindi abbiamo proprio la garanzia della balneabilità e qui con la presidente chiudiamo la puntata e parliamo dell'offerta famiglia abbiamo visto tante cose adrenaliniche presidente mountain bike parapendio canyoning tante offerte per la vita in diciamo nelle malghe tutto ma a cuore avete l'offerta per le famiglie assolutamente sì tant'è che la valle del chiese rientra tra i distretti family della provincia di trento questo significa una garanzia per tutti i servizi dedicata alle famiglie sia di locali che turisti quindi andiamo tranquilli perché sappiamo come andiamo tranquilli perché avete un'offerta completa siete uno dei territori italiani che in pochi chilometri quadrati offrite tutto quello che vuole sia il turista straniero soprattutto che l'ha scoperto qualche anno in anticipo ma ora anche gli italiani amano sempre più le vacanze attive le vacanze outdoor le vacanze all'aria aperta e voi in pochi chilometri quadrati di questa valle dal lago di rilido alle dolomiti di brenta offrite quello che vuole l'italiano esattamente abbiamo l'offerta per le famiglie con dei servizi dedicati quindi strutture con servizi per bambini la ciclabile che giustamente hai citato che è diciamo prettamente pianeggiante quindi i bambini la possono percorrere senza particolari problemi oltre a tutto quello che abbiamo in quota con centinaia di chilometri di percorsi tracciati sentieri per chi invece è più attivo e più adrenalinico grazie presidente il tempo a nostra disposizione purtroppo è tirano quindi maggiori informazioni per scoprire le attività di questo territorio visitchiese.it grazie a diego de cali con era bazali e al presidente come noti del consorzio turistico qui dalla valle del chiese toni salinas e gialluca podi che per le riprese il montaggio di questo speciale televisivo di questo territorio la valle del chiese un territorio che parte dal lago di idro e arriva sino alle dolomiti di brenta patrimonio mondiale dell'umanità e alle cime incontaminate della damello potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportador.tv la multipiattaforma tv e web tutta dedicata al turismo e allo sport noi ci vediamo settimana prossima stessa ora stessa frequenza ciao e arrivederci da Floriano Moponi sali in quota avvicinati alle montagne del trentino occidentale con funivie e seggiovie fino a settembre le località dell'associazione schirama dolomiti ad amello brenta ti aspettano per scoprire gli itinerari più belli se acquisti adesso lo ski pass stagionale del prossimo inverno avrai libero accesso agli impianti di risalita tutta l'estate vivi con noi una stagione di emozioni info su schirama.it quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è cetilar doppia forza al tuo massaggio il massaggio con il nuovo cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare anche quest'anno per la gioia di tutti gli appassionati di off road a carrara torna il 4x4 fest il più importante salone italiano dell'auto a trazione integrale auto moto quad accessori test drive in pista ed in spiaggia tour alle cave di marmo e raduni 4x4 fest a carrara fiere dal 12 al 14 ottobre 2018 in collaborazione con schirama dolomiti ad amello brenta ponte di legno tonale alpe cimbra folgaria la varone vicina da non crederci val di sole funivie folgarida e marilleva paganella ski valle del chiese valle di ledro